E' l'Università La Sapienza ad avere il primo centro per l'impiego all'interno della città universitaria. L'inaugurazione è avvenuta giovedì 11 febbraio a quattro mesi dalla firma del protocollo. Qual è la differenza tra questo centro per l'impiego e quelli tradizionali? In primo luogo, il luogo. Portiamo i centri per l'impiego nei luoghi dove sono i giovani e dove ci sono quei giovani che tendenzialmente cominciano a pensare a trovare un lavoro, cioè nelle università. E poi si trova in un centro polivalente di offerta di servizi agli studenti universitari. A Via dell'Holli sotto c'è la mensa, la Gorà è stata raccontata, sopra un centro servizi. Uno studente che cerca lavoro e arriva qua, che cosa trova? Beh, qua intanto trova una situazione molto accogliente, trova molte postazioni di autoorientamento, trova un servizio d'orientamento e trova un centro per l'impiego vero e proprio dove può fare le iscrizioni, partecipare alle nostre gradatorie e alle opportunità pubbliche. In più trova una tematizzazione, cioè sempre di più cercheremo di far lavorare i nostri centri su target specifici, in questo caso studenti universitari e laureati. Questo centro per l'impiego è a portata di mano per gli studenti dell'Ateneo che vogliono cercare lavoro. Quindi è qualcosa di veramente importante, lo dico da studente, avere uno spazio di aggregazione e di informazione come questo. Quale sarà la prossima università in cui sarà inaugurato un nuovo centro per l'impiego? Stiamo lavorando a stretto contatto soprattutto con Roma 3 e con Tor Vergata. Io credo nei prossimi mesi, ripeto, è anche molto importante segnalare che questo è avvenuto in quattro mesi, che sono tempi super veloci considerando le pubbliche amministrazioni. Invece in questo caso abbiamo fatto molto molto bene e molto in fretta, faremo altrettanto con le altre due università. Il centro per l'impiego si trova in via dell'Holis 22, nei locali di Lazio Disu, proprio sopra la Mensa e sarà aperto tre volte a settimana anche durante i pasti.